È stato approvato dal Consiglio Comunale che ne ha competenza il progetto preliminare per l'ampliamento del cimitero di Luciano che è un ampliamento importante volto soprattutto a ampliare i campi per inumazioni a terra. Visto che questo è una cosa che assolutamente è da rendere disponibile al più presto, noi ci siamo impegnati sulla progettazione e quindi siamo arrivati al progetto preliminare che quindi il Consiglio ha autorizzato. I lavori non sono lavori banali perché è un importo poco oltre i 300 mila euro quindi è importante e prossimamente quindi dal progetto preliminare entro l'anno si arriverà al progetto definitivo, il progetto definitivo verrà sottoposto ai pareri degli organismi competenti e poi si approverà il progetto esecutivo che è quello appaltabile e cantierabile.